Rilanciare e sostenere tutte le attività economiche e imprenditoriali gelesi è l'obiettivo della Commissione Permanente Sviluppo Economico preseduta da Antonio Torrenti e composta da Anna Comandatore, Angela Maria Di Modica, Vincenzo Giudice e Carmelo Orlando. Per tentare di uscire dalla crisi perdurante sono stati presentati ben sette emendamenti rivolti alla promozione e alla valorizzazione del centro storico e al rilancio delle imprese agricole, artigianali, industriali e a sostegno delle start-up e dell'imprenditoria giovanile. I cinque di questi qui riguardano il progetto di valorizzazione del centro storico che già la Commissione che presiedo a giugno presentò in Consiglio Comunale. Una valorizzazione che potrà dare ai commercianti e non solo la possibilità di rilanciarsi perché il periodo di certo non è dei migliori. Quindi cinque di questi emendamenti vanno a coprire e a dare copertura finanziaria se passassero in Consiglio Comunale in sede di voto prossimamente la copertura finanziaria al progetto. Così immagino che dopo il voto del bilancio si possa istituzionalizzare questo progetto e partire per i quattro mesi sperimentali. Gli altri due emendamenti che presenteremo e abbiamo già presentato e per cui si avvierà un discorso in aula consigliare riguardano la copertura finanziaria alle start-up. Perché questo? Io come Presidente di Commissione di Sviluppo Economico un mesetto fa abbiamo ricevuto l'affare fornito da parte della Presidente del Consiglio su un mandato dell'assessore al sviluppo economico di sviluppare e lavorare su un regolamento per le start-up. Questa cosa vuol dire che è nell'intenzione dell'amministrazione finanziare le giovani imprese, quelle che vogliono immettersi nel mercato e quindi alzarsi start-up, con dei fondi, con dei finanziamenti a fondo perduto. Per fare questo ci vuole un bando, per fare il bando ci vuole un nuovo regolamento. La Commissione ha questo affare, ci lavorerà, ma in corso d'opera ci siamo accorti col bilancio che mancano i fondi. In merito invece alla valorizzazione del centro storico, quali categorie saranno coinvolte? Gli artigiani in primo luogo, i commercianti è da loro che viene la richiesta iniziale perché c'è un periodo che va oltre l'estate fino al Natale che è sostanzialmente vuoto per loro, vuoto di affari. L'idea di rilanciare il centro storico con una serie di iniziative che sono all'interno del progetto è proprio quella di venire incontro ai commercianti e far sì che questo periodo commercialmente morto piuttosto torni ad essere vivo come lo è stato per quest'estate. E' stato coinvolto anche le associazioni presenti sul territorio? Soprattutto, ma voglio dire, diversi sono stati gli incontri, l'ultimo alla Pinacoteca, posso parlare di Gela Centro, con Commercio, Fipe, con Fesercenti, altre associazioni, la Proloco che ha presentato un eccellente reportage, belle idee soprattutto. le associazioni e alcune piccole imprese che sono specializzate nella ristorazione. Ma poi, dico, questo progetto è aperto, è già insito, c'è un passo all'interno del progetto, è aperto a nuovi soggetti, quindi tutti possono partecipare.